Non era scontato neanche il terzo posto, l'obiettivo era quello di salvaguardare, ricomporre un campo di forze per dimostrare di essere ancora in campo, perché il rischio nell'altra ipotesi era la scomparsa. Ha provato Massimo Zedda, il golden boy del centro-sinistra, a cambiare la storia, a farne tutto un'altra, come diceva il suo slogan, ma l'onda del centro-destra lo ha fermato al 33%. Questo è il comune di Cagliari, Massimo Zedda è stato eletto per la prima volta qui nel giugno 2011 con l'ondata dei cosiddetti sindaci arancioni, poi è stato rieletto per un secondo mandato nel giugno 2016, già al primo turno. E dire che Zedda in città è molto amato, siamo andati al caffè della Costituzione dove spesso si fa vedere. Zedda, come le sembra? Ha fatto delle belle cose in città, quindi senz'altro può essere positivo. È stato per Cagliari un bravo sindaco che ha cambiato molto la città, l'ha resa a mio avviso più bella. La spiaggia, ha fatto tutto il lungomare, la pista ciclabile. Ha fatto cantieri, ha fatto belle piazze, la città è molto più pulita. C'è persino chi è arrivato dalla Cina per votarlo. Tu dove vivi adesso? A Shanghai. E sei tornata a Cagliari per votare? Sì, io ho votato Zedda come presidente. Perché? Perché diciamo che rispecchia i miei ideali e soprattutto mi ci rivedo dal punto di vista, anche di un italiano all'estero, rivedo quello che io vorrei che fosse l'Italia. Ha fatto sognare la sinistra prostrata nel resto del paese, lui che non è nemmeno del PD. La sua casa è campo progressista, la creatura di Giuliano Pisapia e non ha voluto nessuno dei big nazionali sull'isola. Per fortuna, ma perché esistono ancora dei big del PD? 43 anni, riservato, pragmatico, ha puntato su un centro-sinistra largo, otto liste, dal PD ai comunisti. Il sogno però si è scretolato questa mattina. La sensazione è quella di prendere un caffè. Resta la soddisfazione di aver preso tre punti in più della coalizione. Io ho votato col voto disgiunto. Perché? Perché avevo delle preferenze personali e poi dopo di che una preferenza per quanto riguarda il Presidente della Regione. Eravamo dati per inesistenti di fatto dopo le politiche, invece con questo dato noi riusciamo a ricostruire un campo di forza sul quale bisogna lavorare perché per adesso superiamo il Movimento 5 Stelle e la prossima volta supereremo anche il centro-destra.